Il bellissimo brano insieme, proviamo! Giardista, consegno, vai! 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 Dicevo, vieni, prima di fare lo spettacolo, prima di fare lo spettacolo, dice, un momento, la cosa c'è nella sentita della Messa. Io vado, sento la Messa, viene di particolare, ma la cosa strana è la scelta, perché la scelta c'era la porta alta, e c'era la scelta bellissima. Io vi auguro di essere come i frani, come i sacerdoti, come i francescani, in centri, come cento tesserti, quindi in centri d'arri, ma c'era scritto davanti alla chiesa, davanti alla porta, Gesù comunica con me, non di noi! Però Gesù non ti chiamerà mai! Perciò, guarda l'essere, io lo sento, Onnipro, guarda l'essere, il tempo alla porta. Il tempo passava, si sai che ho accolto la mia, mentre si ritagò a noi, la prima volta. Ho un certo punto di sì, il tempo passava la lanza, non di noi, di noi, nessuno passava da un altro modo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.